Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Grande fratello, Fiordaliso nella bufera per una frase. Già qualche giorno fa la cantante è stata duramente criticata per aver pronunciato la N-word. Parlando con Rosic in Fiordaliso ha confidato di aver partecipato al Grande Fratello nella speranza di godersi un po' al dimeritato riposo sottolineando, lavorò come un nesteriscoro tutto il giorno. In tanti hanno ricordato che per aver pronunciato la stessa parola Fausto Leali era stato squalificato. Fiordaliso in quell'occasione si è salvata, ma adesso è di nuovo al centro dell'attenzione del pubblico per un'altra frase. L'argomento è il rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi Bach. La cantante, durante la puntata, ha spezzato una lancia a favore dell'attore reputando il comportamento della giovane un po' troppo esasperato. Poi ha usato una frase che molti hanno considerato infelice e punibile con la squalifica. Gli animi si sono surriscaldati parecchio e Massimiliano Varrese ha anche minacciato di querelare Grecia Colmenares per le sue accuse. L'attrice ritiene che Massimiliano debba scusarsi con Heidi perché ha avuto un comportamento opprimente. L'attore non la pensa così e anzi è andato su tutte le furie promettendo di scatenare il putiferio contro gli autori e minacciando di abbandonare la casa. In tutto questo caos Fiordaliso ha tentato di difenderlo. La cantante pensa che non sia vero che Heidi Baci sia stata manipolata da Massimiliano Varrese. Poi però per difendere l'attore dice una frase che scatena un vero e proprio caso. Fiordaliso afferma che in certi casi la violenza è un sintomo di passione. La frase incriminata è «la violenza ogni tanto è passione» ed è stata riportata sui social dove in tanti hanno commentato l'episodio chiedendo la squalifica della cantante. La questione è degenerata tanto che su X c'è chi è del video incriminato per poter far squalificare Fiordaliso. Fiordaliso, una donna arrivata alla soglia dei 70 anni che dovrebbe essere matura e soprattutto dovrebbe dare il buon esempio e dispensare dei giusti consigli, si mette a fare questi discorsi a dei ragazzi, dice un utente. C'è chi sottolinea, in Italia ogni tre giorni una donna muore vittima di impassione. Certo che quest'anno il messaggio che sta passando nei confronti delle donne è devastante. Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.